È un ritratto articolato di un uomo che ha una vita bizzarra, che fondamentalmente dedica il suo tempo a mandare sms a donne soprattutto, avendo come delle virtuali storie d'amore spesso anonime, perché lui poi magari non si presenta, oppure anche sì, dove comunque sia continua a una folla di donne a provocarli con questi sms poetici e anche fortemente caratterizzati in senso sessuale. Qui un pochino come il documentario sul dottor tecnico che voleva essere Pasolini, anche qui c'è la sensazione che il personaggio venga raccontato senza creare un piano critico diciamo nei suoi confronti. Cioè si dà un parco scenico e lui si mette in scena. In questo senso il personaggio che ha una forte dose di ecocentrismo, questa è la mia sensazione, non viene mai messo in discussione. Cioè si ammira, si apprezza, non perché si debba giudicare, però a volte quando c'è un personaggio che ha queste caratteristiche così bizzarre potrebbe essere utile avere, come dire, una moltiplicità di piani. Il modo in cui si racconta che chiaramente è anche un po' una maschera e vedere cosa c'è dietro la maschera soltanto per curiosità esplorativa, non per giudizio. Lui si vede, si vede con i figli, si vede mentre fa queste cose, mentre manda. Non c'è mai una storia in particolare che viene raccontata. La folla di Londra rimane anonima, ripeto. Di lui rimane la sensazione di averlo riconosciuto un personaggio strano di cui però si voleva, forse si sarebbe voluto sapere qualche cosa di più. È un documentario dove io ho visto tanta romanità, cioè tanta periferia, racconta un personaggio che secondo me ha troppi risvolti. Da una parte manda messaggi anche amorosi, sembra quasi che in alcuni momenti faccia delle attività veramente consolatorie, sessuali o dall'altra parte carrellate anche escursioni tra i suoi figli in una situazione a volte anche un po' superficiale perché si capisce che invece c'è tanto dolore e tanta, come dire, materia di rapporto tra padre e figlio. Insomma, un film che ha un personaggio interessante che però lo segue un po' senza avere ben idea di dove andare, che cosa fare con lui. Quindi in alcuni momenti mi ha, come dire, sono stata lì che mi aspettavo un'evoluzione, mi aspettavo che questo personaggio ci raccontasse una storia e invece ci ha aperto tante finestre che però sono rimaste un po' così. Insomma, non mi hanno accompagnato ad un finale. SMS save my soul, ovvero come filmare un personaggio abbastanza ripugnante, mi vuole usare questo aggettivo che è un po' forte, però comunque un personaggio sgradevole, un personaggio verso il quale non si può avere nessun tipo di empatia eppure avere la capacità di portare lo spettatore dentro questo mondo e in fondo, senza nessun moralismo, senza nessuna retorica del giudizio, il regista ci rivela veramente quest'uomo nella sua eccedenza, nel suo continuo mettersi in scena a servizio degli altri, a servizio della macchina da presa, per costruirsi una personalità e però piano piano proprio in questa sovraesposizione si aprono delle crepe che rivelano un fuoricampo estremamente doloroso ed estremamente problematico e alla fine è proprio qui, è proprio in questo fuoricampo non sottolineato che c'è questo corpo a corpo che prende vita, questo corpo a corpo fra il regista e il personaggio in un modo veramente molto forte.